Abbiamo spiegato in quinta commissione questa mattina come ULS3 Serenissima, quindi l'ULS3 di Venezia, i risultati di un'analisi che abbiamo fatto nell'ambito appunto del metodo di lavoro sulle liste di attesa che era in uso nell'ex azienda ULS13 di Mirano e Dolo. Abbiamo presentato gli aspetti buoni del sistema ma abbiamo evidenziato anche le criticità del sistema per cui abbiamo cercato di dare una visione il più oggettivo possibile di quello che veniva fatto nell'ex ULS13 e che noi come ULS3 Serenissima, quindi personalmente come direttore, appena evidenziato il problema l'abbiamo sistemato, bloccato. Questo ci ha consentito di riproporre anche nell'ex 13 la metodologia di lavoro dell'ex 12 e dell'ex 14 e quindi di avere nell'ex 3 Serenissima una uniformità di lavoro per quanto riguarda il tema delle liste di attesa.